annaccia mamma senti una cosa cosa allora io avrei bisogno di fare lo speed guarda che l'hai fatto l'avevamo fatto insieme e allora l'ho fatto non riesco ad accedere però perché non mi ricordo la password infatti volevo chiederti l'hai segnata tu io la tua password no perché perché la tua password cavolo ti avevo detto di scrivertela non è vero però pensandoci secondo me io l'ho scritta da qualche parte dove su un foglio non ti ricordi dove sia il foglio no utile serve anche al papi tra l'altro poi ti chiama se riesce ad aiutarlo raga non sono l'unica vostra figlia ho anche dei fratelli avete altri figli potete chiedere anche a loro una volta lo sai che gli altri non ci aiutano e poi tu sei brava con queste cose sei più tecnologica degli altri a caso solo perché ho un computer mi ricordo che hai fatto anche alle superiori un bel powerpoint le sai fare queste cose aiutaci tu che sei capace che sei capace